Grandi artisti che sono molte volte legati alle loro opere e quindi è giusto se non vi presentarla proprio con qualche nome Sai che facciamo? Sì, facciamo l'ottario Assolutamente, e lei non ci sia piaciuto, vedete? Grazie 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 Buonasera a tutti Buonasera a tutti Se qui tornerai, nel senso che tornerai proprio a San Nazion, andiamo per gradi perché sei qui perché è uscito da qualche giorno il tuo ultimo lavoro discografico che ha un titolo straordinario Non è ancora uscito Beh, nel senso che lo presento giovedì alle ore 18 alle 23.00 Mi aspetto un minuto Eh sì, perché insomma, come dire, sono l'amica di Napoli, no? Di tutta Napoli, quindi mi aspetto proprio la folla di un'altra Applausi Anche già vi sono convinta Se voi venite, eh Sicuramente, Genaro, inizio alla mia presentazione Sono sicura, sono sicura, e anche tu sicuramente Eh eh, che termine a fare Monica, è un solo modo per poter poi vedere i due spettacoli Quindi tu dovrai qui a San Nazion, martedì 30 e mercoledì 31 di ottobre Se comprate, insomma, siccome lo spettacolo su inviti Se però i pochi che non avranno gli inviti vorranno attendere questi spettacoli Possono comprare il tuo cd e all'interno il mio cd Ma, ma, guarda, ma se non ti riesco qua Vado in giro la bossetta Ma che sarà la bossetta ? E' un nuovo cd Mi m'ha detto, ma che fai ? È una carta, un vestito Guarda qua, questa bossetta che cosa serve Buon vedere, dai, notte lenta Questa è il mio cd Monica, domenemi, notte lenta Sono io, eh Non è niente Non è ricca dalla chiesa, non è Marina Ripa di Nean, che è l'ultima vera. Senti, ma facciamo una cosa, perché non ce la fai ascoltare questa notteletta? Perché sappiamo che la title 3 del questo CD, perché c'è una novità, ci sono due inegiti. Ci sono due inegiti, uno scritto appunto da Franco Del Prete, che è la testa degli showman, insieme a... E lui ha scritto questa notteletta che dà il titolo al nuovo album, e poi insomma ci sono tante altre sorprese, ci sono altri inediti, ma io non ho mai avuto fatto scoprire la notteletta, Monica Sarnelli! Mi fate riparlare un po' Ma tanto sei qui anche con noi per la chiusura, quindi ne parliamo ancora tutti. Adesso Monica Sarnelli, notteletta! C'è l'ho già fatto, io gli ho regalato il CD, allora... Glielo regaliamo dopo! Monica Sarnelli, notteletta! Notte lenta, 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 luna ferma a miei suoi cieli, tutti gli ori e luci vanno lenta, lenta, lenta. O mare al corso i cari, al corso i cari, al corso i cari, ci può calmerà. Scendano i la stella, scendano lenta, 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 lenta. Notte senza vedere, senza scrivere, senza capire. Sto pensando a te, perché voglio perderti, non pena tu si tratta, che non puoi immaginare. Sto pensando a te, perché voglio perderti, che voglio perderti, perché voglio perderti, perché voglio perderti, come la stessa, non puoi immaginare. Notte senza scrivere, perché voglio perderti, perché voglio perderti, come la stessa, non puoi immaginare. Non puoi immaginare, non puoi immaginare. Notte senza parole, perché voglio perderti, non puoi immaginare.